Chiaucci, in vista della stagione estiva, è stato autorizzato in via sperimentale l'aumento di portata della diga. Per un periodo di soli due mesi l'indotto passerà a circa 5 milioni di metri cubi d'acqua. Ad autorizzare la manovra è stato l'ufficio tecnico per le dighe di Napoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A comunicarlo ai presidenti delle regioni Abruzzo e Molise, D'Alfonso e Toma, è stato il commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Vasto, Franco Amicone. Come sottolineato dal commissario, con questa autorizzazione, seppur temporanea, si potrà raggiungere la quota di 741 metri dell'invaso sperimentale di Ponte di Chiaucci, che disporrà fino al prossimo 31 luglio di circa 5 milioni di metri cubi, come ulteriore quantitativo per le maggiori esigenze agricole, civili e industriali connesse al periodo estivo nella fascia costiera Abruzzese-Molisana. Quattro metri d'acqua in più per due mesi. L'autorizzazione, trasmessa al commissario Amicone e dall'ingegnere Sivolella, è arrivata dopo un'attenta valutazione del parere espresso dalla Commissione di Collaudo sullo stato dei luoghi, il miglioramento dello sbarramento e delle opere di sicurezza. Nel periodo più critico dell'anno, a causa del caldo e dell'aumento esponenziale dell'utenza, l'invaso sperimentale salirà da 738 metri a quota 741 sul livello del mare. Il Consorzio è stato invitato a effettuare le verifiche continue delle perdite e delle quote piezometriche, redigendo entro 60 giorni una relazione in proposito. Grande soddisfazione è stata espressa dal commissario Amicone, che ha programmato anche la consegna dei lavori per il completamento della diga. Ad oggi, l'impianto, considerato invaso sperimentale, ha accumulato 4 milioni di metri cubi d'acqua. Questo è il terzo collaudo fatto all'impianto. Il precedente risaliva al 2005. Una volta ultimata, la diga potrà raccogliere 14,2 milioni di metri cubi d'acqua.